ragazze buongiorno abbiamo invocato la pioggia qui al sud e non vi dico comunque buono buono ragazze ottimo 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 allora raga vi volevo fare vedere questa è la famosa camicia che ho lavato ieri di zara come vedete ancora purtroppo non si è asciugata anche se è messa al riparo e vi volevo fare vedere questo è il copricostume che ho preso su shane che naturalmente ho lavato e vi devo dire che di solito questi colori un po così forti quando si lavano estingono nel senso che appunto rilascialo un po di colore invece vi devo dire questo completamente l'ho lavato non ha non si è estinto completamente non ha buttato neanche un poco di colore quindi devo dire che la qualità non è male allora ragazze io sto andando sono le 11 sto andando a casa di mia figlia ieri sono stata da lei nel pomeriggio abbiamo lavato tre quarti del corredino e adesso appunto dobbiamo fare l'altro all'altra parte e poi l'ho aiutata l'ho aiutata diciamo che ho fatto tutto io a fare il cambio di stagione quindi abbiamo messo tutte le cose invernali negli scatoloni che lei ha comprato ragazze non vi dico l'esagerazione di vestiti che a mia figlia veramente un'esagerazione cioè non lo so forse se io ho contato 40 50 maioni non lo so ragazzo perso il conto di quanti quanti maioni una cinquantina quanti ragazze veramente non vi so dire e quindi abbiamo fatto questo primo step di cambio di stagione non abbiamo ancora finito e poi la sto aiutando anche a fare altre cose sistemazione cassetti e cose varie comunque ora ci sto andando il tempo come vedete è così per fortuna io devo passare solamente da un portone all'altro quindi non devo fare per fortuna nessuna strada e niente quindi mi sto recando da lei vediamo se posso fare qualche immagine e vi faccio vedere a più tardi il tempo continua a essere bruttino ragazzo ogni tanto spunta un raggio di sole noi siamo alle prese con tante lavatrici però purtroppo il tempo per ora è questo ragazze questo è il lavoro che sta facendo mia figlia sta preparando le buste con le cose tante cose le abbiamo lavate tante cose sono ancora da lavare intanto vi faccio vedere sempre le piante belle che cura salvo mio genero guardate che belle piantine che ha ha il pollice verdissimo quello pure quella pianta che è fatta bella anche quella allora poi vi faccio vedere che mia figlia lo stesso copriletto mio io l'ho regalato io guardate che sta bene anche qua io avevo diciamo la titubanza della gatta da parati e invece vi devo dire che sta bene ci siamo appunto rese conto che sta bene lo stesso qui c'è l'altro balcone sempre un timido sole io mi illudo che possa spuntare un bel po di sole e invece è così questo è il lavoro invece che le ho fatto ieri ragazze quelli sono tutti scatoli con tutta roba invernale e da mettere sopra la cabina armadio e poi le ho rassettato i cassetti perché ho tolto tutto l'invernale ve l'ho detto che mia figlia qualcosa come 50 60 maioni forse e quindi ho messo tutto qua qua ci sono tutti i pantaloni insomma poi le ho appeso delle cose che ha comprato da pre natale nuove per l'appunto per indossarle con la pancia grossa ha comprato un vestitino poi quest'altro vestitino lungo questo è un completo di casacchina e pantalone in lino e niente ragazze questo è il suo angolo trucco ve l'ho fatto vedere tante volte la tutte le borse e comunque per ora mia figlia giustamente si sente pesante giustamente fa poco niente di fattile l'aiuto un pochino io e poi che dirvi ragazze niente oggi le ho fatto un pochino di pulizia e mi sento più più tranquilla ok a questo punto io me ne vado perché ho una casa pure io giustamente vabbè io la casa l'ho lasciato rassettata poi insomma c'è meno da fare quadra tra corredini e cose varie e poi salvo che fa padel fa palestra quindi abbigliamento da palestra abbigliamento da padel insomma mia figlia un bel po di lavoro niente il tempo continua essere così speriamo che si allarghi appunto vi ripeto proprio per per asciugare tutta questa roba che stiamo lavando ok allora io mi faccio tutti questi chilometri e me ne vado a casa mia ragazze direi che per quanto ho lavorato stamattina da mia figlia perché a casa mia ho fatto poco e niente perché in questi giorni mi sono adoperata molto appunto per le pulizie anche perché purtroppo sono a riposo forzato con la palestra quindi mi sono spesa oggi molto per per casa di mia figlia però vi dico sempre che poi mi sento tranquilla perché le ho fatto un bel po di cose anche se ancora ce n'è comunque questo mi sembra il giusto premio per come dire dopo tutto questo lavoro allora questa è una pasta dice dice lo chef allo scoglio con colata di nero di seppia e queste cose che vedete questo è gambero che però si è colorato di nero quindi diciamo ragazze che è un mix e match quindi c'è nero c'è gamberi e c'è altro pesce diciamo che è un miscuglio ma un miscuglio di cose buonissime naturalmente questa non è la cioè non è mia è questa è questo è un piatto da portata è di tutte e due però naturalmente anche il pesce fa molta come dire consistenza volume ecco perfetto allora ragazze io vi saluto non so se nel pomeriggio ci rivediamo ma non credo però ragazze perché in programma diciamo non c'è niente niente quindi ragazze vi saluto vi do un bacione mi raccomando vi ricordo sempre di iscrivervi al canale di mettere sempre like se i miei video vi piacciono chiedetemi quello che volete vedere cercherò di accontentarvi intanto vi bacio perché ho da fare